Bentornati a Join Rimini. Oggi siamo nella spiaggia libera di Marina Centro, praticamente il bagno zero, sotto la ruota panoramica. Questa spiaggia è accessibile gratuitamente, dispone di bagnino di salvataggio, doccetta e bagni pubblici. In descrizione vi lascio il link relativo alle altre spiagge libere di Rimini. All'ora dell'aperitivo abbiamo due sceglie. Possiamo andare al bar souvenir per fare un aperitivo classico oppure per una pizza a taglio da ok pizza e entrambe le strutture sono più alle mie spalle. Come vi dicevo anche i due posti dove possiamo andare, il bar souvenir o la pizza. Ciao! Grazie a tutti. Bene, abbiamo preso tre pizze e ora partiamo a mangiare. Saranno buonissime. Siamo venuti in questo posto perché la parte più bella è quando devo andare a mangiare ai passerotti. Guardami. Dovete cercare di farli salire sul tavolo. Ecco, vedete? Vedete? Abbiamo finito di mangiare, come avete visto non l'avevamo ordinato da bere, infatti ci siamo guardati dietro la nostra barraccia che andremo a riempire a quella fontanella. Come sempre vi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto e iscrivervi al canale per ricevere le notifiche su nuovi luoghi in cui andrò. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Giulia, 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 Giulia guarda lo. Ciao. 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 Grazie a tutti.